ciao a tutti e bentornati nel canale i miei prodotti preferiti del momento ne ho pochi non sono tanti ve ne faccio vedere 23 per il viso e poi vediamo allora il primo partiamo da una schiuma struccante 3 in 1 viso occhi e labbra 0 parabeni e 0 credo la pedro lati e alla bava di lumaca della marca fast complex che spesso prendo nella profumeria naima mi son trovata benissimo mi sto trovando benissimo l'importante la prima volta ho sbagliato avevo messo troppo prodotto e non andava bene adesso so il vero dosaggio che ci vuole ne metto un pochino ed è stupendo poi ho rivalutato un prodotto che avevo preso da kiko ed è un primer illuminante base prima del trucco e sulla tonalità avrei voluto dorato però comunque alla fine va bene lo stesso crema illuminante l'ho rivalutato e lo sto usando e mi trovo benissimo video veloce ragazzi poi l'oglietto intra di solito l'inverno metto l'oglietto è un oglietto all'argan e burro di karité abbastanza normale preso ad acqua e sapone adesso però costa più di 10 euro poi un ombretto matita della famosa estetista cinica ha di tanti colori se uno ha fretta fa sia lo può usare come matita che come ombretto segna tantissimo però poi si secca e non sbafa devo provare altri prodotti dell'estetista cinica il pegachink non mi fa impazzire però i prodotti sono molto carini il rossetto del momento e dell'oreal e te 115 è una tinta labbra è quello che porto adesso molto bello per l'autunno l'oreal ovviamente sto portando a termine il rossetto nude di charlotte turburi che quando voglio veramente fare un trucco o troppo leggero o più pesante per non caricare le labbra uso lui è finito è stato proprio bellissimo poi questo volume booster di della essence molto 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 era finito mi erano finiti tutti mascara molto molto carino 3 99 e passa la paura poi i profumini del momento e cocco e vaniglia di divine avevo bisogno di coccole ma non di un profumo troppo forte un profumo che poi quando sta sa di raffaello rocher al cocco molto buono e poi dolce gabbana devotion e vi consiglio vi consiglio di a mamma che buono di equivalenza il 433 ne vale veramente la pena ottimo 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 fantastico ragazzi equivalenza io da oggi in poi non acquisterò più troppi profumi 12 all'anno di quelli costosi il resto prenderò solo profumi di equivalenza in estasi perché questo periodo li adoro tantissimo bene un video breve giusto per salutarci magari quando sto di luna più sto meglio e ho voglia di parlare di più faccio un video più lungo video corto ciao